Difficile che, come teme il capogruppo friulano del nuovo centrodestra Alessandro Colautti, i confini con la Slovenia possano diventare le lampe d'usa del nord. Tuttavia, l'intera area del nord-est è sottoposta a particolari pressioni per l'accoglienza della grande ondata di profughi nordafricani, in continuo sbarco nell'isola siciliana. Mobilitazioni ce ne sono ovunque, sia dei contrari, che non mancano di contestare gli invii annunciati fra Trentino e Alto Adige, che pure hanno una percentuale minore rispetto ad altre regioni, come il Veneto, dove il prefetto di Venezia, Domenico Cutaia, che coordina la distribuzione dei profughi nelle varie province, si trova a mediare e chiedere sempre nuovi sforzi ai primi cittadini della regione. Finora, ha ricordato, sono giunti solo, per così dire, 2.224 migranti, quando il tetto stabilito per l'accoglienza in Veneto è di 3.742. Bisognerebbe, cioè, mettere a disposizione altri 1.500 posti. In fluo di Venezia e Giulia, già impegnato a sorvegliare i confini da potenziali immigrazioni clandestine dall'est Europa, vi sono pure situazioni di contestazione popolare per qualche invio, come la quindicina di migranti deviati a Tarcento quando erano destinati a Malborghetto. Vi sono inviti alla protesta, come quella della Lega Nord, che invita i cittadini a tempestare di telefonate il centralino della prefettura di Udine per opporsi alla presenza di profughi in regione. Ma la regione, nel senso di un'istazione pubblica, intanto intensifica la collaborazione con i sindaci per garantire la massima sicurezza delle operazioni. La presidente Deborah Sarrecchiani ha incontrato, insieme all'assessore alla solidarietà, Gianni Torrenti, tre sindaci della Val Canale, Renato Carlantoni di Tervisio, Ivan Buzzi di Pontebba e Boris Preskern di Malborghetto Valbruna. Con loro è stato condiviso il modello dell'accoglienza diffusa che prevede l'organizzazione di piccole strutture di primissima accoglienza a disposizione delle forze dell'ordine per intercettare i flussi via terra e migliorare le procedure di identificazione, oltre a garantire l'assistenza sanitaria di cui necessitano operazioni delicate come queste.